Siamo nel sesto episodio con la partita fondamentale per il primo posto con Juve Man United Giocheremo al Trafford e ci mettiamo, come sempre, sul campo di gioco Ok ragazzi, ci siamo nell'ultima partita molto fondamentale, non molto fondamentale, sarebbe molto italiana Con Man United, oltre al Trafford, sarà una partita difficile, ma noi diciamo che ce la dovremmo fare Bene, già Pianic, come un po' non è importantissimo Di Bala Intanto qui, quadrato Pianic Ok, grazie Bene, Pianic, io l'ho anche fatta passare sotto le gambe, per me è già un 10 Guardate, guardate la precisione di Miralem Ok, 5 minuti dai che mo' però Cioè, di chi è? Io devo fare video su YouTube Tanto abbiamo ancora Kim, è lì Rommi Rommi per quadrato Rommi per quadrato E la Kim Ok, Matuidi Di Bala, prova, prova il certo Secondo tiro, va bene Ok, Ronny 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 Pro, va bene, pazienza Herrera, quel Danaterrera che ha fatto gol, secondo me, poi No, forse Sanchez, ragazzi, non lo ricordo, scrivetemi in commenti, Matta Ok, quadrato Ok, quadrato E' ancora un grosso Pogba, è dappertutto Quindi direbbe Pogba, eh, si Pogba Come direbbe Civi Studios, Pogba, it's my Jesus Però Oppure come è, ridirebbe lui, queste sono Quelle sono scelte Ok, proviamo il cross, ma Attenzione, no, era la palla di Kim quella lì Se segna Kim, non so Facciamo bordello Kim Kim Il tiro Di Kea, va bene, va bene Va bene, raga, va bene Ma chi ne ha anche il 72, è un baggatone assurdo, secondo me Bene, bravo Madonna mia, non la che ho fatto uscire, no, era colpa di altri Bella di Bala di Bala di Bala Miran Di Bala Guarda la di questo spazio che si mette Di Bala di Bala, ovviamente di Bala, non ci può dare di testa Kim, vabbè, pazienza, Kim Lo sappiamo che vuole fare gol, eh, però Oh, Ronaldo non si è visto, eh Eh, infatti, un ira Eh, Shesny, non fa il figo, eh Che qui Guarda la Kim che se ne va così Beh, vabbè, vabbè Qui gli è mancato un po', eh Qui gli è mancato lo sprint Perché aveva Ah, vabbè, ha già saltato Valencia Bella lì Nooo, perché ste palle così Luca Q Sanchez Ma sì, va bene La skin Ronny Di Bala, fermati E no, però, eh Paul Bravo, chi è? Non era Bonucciolo Un quadrato, prova Non ce la fa Partita bloccata, come dire, bene, andava ora Bellissimo Castielo si è fatto Un metri in mezzo, ma va bene E poi non ci fate fuori No, non ci fate fuori Alessandro Beh, Alessandro, potevi far farla assista a quei altri, ma quelli Bene, primo tempo andato Scusate Si viena a zero, una bella partita D.M. Vi è un po' boh vincere il tuo valese che se ne fega ma noi andiamo per la per la cosa nostra rani gilipo ogni di barra ancora ma quanti cacchi sono in difesa questi vuoi che ne prendo sempre uno o di barra che c'è più di fucilatiche ma con 89 dc n non bella kim bellissimo giocatore dell'anno titano ballon d'or no ma non si può non mi piace scelmi e no madonna mia piani mc matic matici matici guarda via perché lui vuole prendere tutte con di noi poi poi tanto aiutare insomma il quale che passeranno aiutare anche il suo menino alzata tanto la lista non si vede brin in avanti stasso un moto dai che sono scoperti ora ne scoperti guardare la quei camperoni schifosi non mai che c'è scelta bene settantismo ora è l'ora di dallas ah ecco non c'è skill berna beh mettiamo rodrigo e noi mettiamo rodrigo non ho trovato ma se ho mai minuto l'unico quando sono stato appagato no ho tolto anche chi non è possibile guarda questi che fanno melina guarda lì guarda lì questi che vogliono vogliono far melina a tutti i costi che tanto importa non ci arrivate lasciami a palla Sanchez che tanto sei un vecchiume ooooh queste spallate qui ci vogliono come queste palle qui skillberna su su veloce come rodrigo ronaldo eh ma chissà come mai ne prendo sempre l'uomo dell'unite eh grazie è molto bravo Matteo grazie quindi questi qui bisogna pressarli e non me rompere nooo io voglio finire da zero da zero perchè è ridicola eh no non ti importante dovranno fare questi qui niente 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 curati 2 non lo stiamo un battuto guarda questi che ha fatto melina tutto il tempo che schifo questo è stato proprio l'esempio del non calcio io io che prendo appalonate questi qui ma ragazzi sono cosa di due secondi mi piace tantissimo perchè riuscite nero ovviamente come vedete sei ti riporto gli altri sei e gli altri tre ragazzi vediamo anche qui perchè volevo farvi vedere anche chi c'è anche nel prossimo turno ci facciamo e daje ol bene olipic leonef invece no ha beccato l'hofenheim se no poi noi con chi siamo brutti eh benfica roma vabbè ragazzi la prossima partita sarà con juve o l quarta di finale e ottava di finale e allora facciamoci ciao 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 ciao